Gli indipendenti per Prato presentano una serie di proposte per far emergere il distretto parallelo. I blitz sono inutili, senza incentivi a chi sceglie la legalità. Sentiamo. Auspichiamo che da qui si possa ripartire, che sia veramente un punto zero per affrontare la questione dell'immigrazione clandestina e soprattutto dell'irregalità economica che si è creata in questo distretto, con concretezza, con determinazione e con la consapevolezza che da questo problema si esce solamente tutti insieme. Dopo il lutto e il cordoglio per le sette vittime della tragedia del macrolotto, gli indipendenti per Prato hanno anticipato i contenuti del documento che presenteranno dopodomani in Consiglio Comunale. L'obiettivo principale è far emergere il distretto parallelo, tramite azioni congiunte tra istituzioni, diocesi, sindacati, associazioni di volontariato e ordini professionali, con tutti i vantaggi economici, sociali, fiscali, contributivi e di sicurezza che questo comporterebbe. Il primo punto della proposta degli indipendenti è assolutamente originale. Non si parla più soltanto di blitz, sanzioni e controlli, ma di dare fiscalità vantaggiosa sul patrimonio immobiliare, sul reddito e agevolazione in ambito urbanistico a chi rinuncia all'illegalità. Siamo convinti che la leva della forza sia pressoché, non lo voglio dire inutile, però inefficace, perché numericamente sembra una battaglia persa. Quindi noi proponiamo di fare un regolamento per istituire una certificazione comune, condivisa per tutti quanti, che parta dai committenti fino ad arrivare ai laboratori. Chi deciderà di stare in questa certificazione e in questa filiera potrà avere un risvolto non solo in termini, ovviamente, di immagine. Una sorta di denominazione di origine controllata e garantita, insomma, che porti ad un brand in grado di creare un circolo virtuoso, escludendo automaticamente dalle commesse e dal lavoro chi non è in regola. I punti che più da vicino toccano la politica, invece, prevedono un impegno concreto del sindaco, del governo e della regione verso le autorità governative cinesi, per definire una strategia chiara e controllare i flussi di immigrazione e per garantire un numero adeguato di forze di polizia capaci di tutelare l'ordine pubblico e verificare le condizioni di lavoro e di rispetto della legalità.